Prosegue la storia dell'imbarcazione Basilico, una storia di emozioni per mare, di divertimento e anche di successi perché avete collezionato degli importanti risultati in tutta Italia. Sì, quest'anno abbiamo riniziato la stagione con la barca nuova che ci ha regalato il nostro sponsor e tifoso numero uno Gigi Faliva con il BBC Meteor Team e abbiamo iniziato una stagione che è stata lunga, è stata complicata però ci siamo divertiti molto. La nostra stagione numero due, la seconda barca e abbiamo collezionato un po' di podi in giro per l'Italia. Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo minimo al campionato italiano assoluto che era arrivare nei primi dieci. Ci siamo selezionati per partecipare al campionato italiano match race qua nel nostro circolo, nelle acque di casa. Abbiamo fatto secondi anche al campionato italiano match race che sono regate uno contro uno molto adrenaliniche e non ultimo siamo andati a partecipare a Trieste alla Barcolana che è la regata più grande del mondo. Purtroppo la domenica c'era troppo vento e la regata si è svolta solo per le barche molto grosse però noi il sabato siamo riusciti a fare due regate molto molto adrenaliniche anche quelle, molto toste, molto aggressive, c'era molto vento e abbiamo collezionato anche qui due secondi che ci lasciano molto soddisfatti. Chiunque sia andato a vela anche solo poche volte sa che è bellissimo, è emozionante sentire il vento, sentire il mare. Quali sono le cose che ti piacciono di più dall'andare per mare? Beh sicuramente da quando siamo bambini che insieme andiamo in barca e qua al nostro circolo della vela che è Erics che ci sostiene sempre. Sicuramente andare in barca è sensazione di libertà pura e contatto con la natura è quello che ci spinge ogni volta anche col freddo, con il vento, con le onde a uscire in mare, a prenderci il nostro spazio per stare sereni e stare in amicizia e divertirci perché alla fine la competizione anche per mare è una delle cose più belle che si possano fare.